Calcio di punizione per il San Biaso, un avanti per il controllo Orlando, poi subisce palla ancora per il San Biaso Calcio di punizione proprio all'inizio dell'area di rigore, atterrato Martello, calcio di palla su Orlando Calcio di punizione per il San Biaso, può essere molto pericoloso, la posizione è molto vicina per effettuare un tiro secco appena fuori area di rigore Calcio di punizione, parte Curcio, sinistra a girare Calcio di punizione per il San Biaso Calcio di punizione per il San Biaso